Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se fuori tempo massimo. Oggi voglio proporvi un video un po' particolare. So che molti di voi sono affezionati alla Wii U e ancora oggi la tengono collegata. Tra la Virtual Console e qualche esclusiva che ancora non è arrivata su Switch, la libreria di Wii U ha ancora molto da offrire, molto più di quello che pensate. Quindi in questo video parlerò di alcuni titoli che vale assolutamente la pena recuperare ora, prima che sia troppo tardi. Il tempo stringe infatti un po' perché i prezzi dei giochi Wii U stanno salendo a vista d'occhio, un po' perché non sappiamo fino a quando Nintendo deciderà di tenere gli store aperti. Dunque questo è il momento giusto per fare gli ultimi recuperi su questa storica console. Prima di iniziare mi raccomando sapete come supportare il mio canale con un piccolo gesto, basta veramente pochissimo, un like, iscrivetevi attivando la campanella delle portifiche e seguitemi ovunque, soprattutto su Instagram dove sarò molto più attivo in questo periodo. E poi se volete c'è il Poreon per finanziare direttamente la realizzazione di questi video, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo da una vera e propria hidden gem, disponibile anche in edizione fisica, Tank Tank Tank. Lo conoscevate? Secondo me no. Tank 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 è uno sparatutto arcade in terza persona che si rifà chiaramente alla formula popolarizzata dagli Earth Defense Force. Anche qui sarete chiamati a distruggere qualsiasi cosa si muove su schermo, principalmente giganteschi mostri che minacciano contesti urbani, solo che per l'occasione sarete alla guida di un car armato. Come tutti gli EDF il gameplay è frenetico ed arcade e per questo tende a diventare un po' ripetitivo se si affrontano lunghe sessioni di gioco e di certo non aiuta la struttura della campagna in giocatore singolo che costringe a rigiocare più volte gli stessi livelli per ottenere medaglie necessarie nella progressione del gioco. Anche controlli sono tutt'altro che fluidi e la grafica potrebbe appartenere a un titolo uscito diretto dalla Wii. Ma allora cosa ha di speciale questo Tank Tank Tank? Il multiplayer. Tolti i classici deathmatch, la parte più interessante è sicuramente la modalità My Kong, pensata per sfruttare al meglio il sistema di controllo della console. Il giocatore col paddone prenderà il controllo di un gigantesco gorilla intento a distruggere la città, su cui potrà tra l'altro appiccicare la propria faccia digitalizzata grazie alla telecamera frontale del pad, mentre i restanti tre giocatori dovranno cercare di abbatterlo. Un multiplayer asimmetrico divertente e ispirato che da solo vale l'intero prezzo del biglietto. Superato l'impatto iniziale troverete in Tank 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 un gioco in grado di regalarvi parecchie ore di divertimento, soprattutto in compagnia. Del prossimo gioco ve ne ho già parlato nel video dedicato alla Wii U uscito qualche tempo fa, ma credo sia giusto ribadire l'importanza di questa hidden gem che in molti non hanno considerato perché pubblicizzata nel modo sbagliato. Praticamente il destino di tutta la Wii U condensato in un unico software, Wii Sports Club. La più grande colpa di Wii Sports Club è stata quella di essere arrivato a soli 8 anni di distanza dall'uscita di Wii Sports su Wii, in un periodo storico dove gli utenti non volevano più sentir parlare di motion control e Nintendo faticava a far capire che Wii U era una console diversa da Wii. Club è sostanzialmente la versione definitiva di Wii Sports e include tanti miglioramenti che ne valorizzano il gameplay base che dimostra ancora oggi un grande potenziale, soprattutto nel gioco del tennis. I 5 sport, tennis, bowling, golf, baseball e box non vengono certo stravolti ma perfezionati nella loro esecuzione e nell'offerta contenutistica. Tutti i movimenti sono stati migliorati grazie all'implementazione del Wii Motion Plus, accessorio ora integrato all'interno del controller Wii e Wii U e alcuni sfruttano le feature specifiche del pad, come ad esempio il golf. Sono stati aggiunti tutorial e minigiochi per impratichirsi con gli sport e c'è anche una funzione di multiplayer online che dovrebbe ancora permettere di giocare se non altro con gli amici. Decidere di venderlo a pezzi solo in digitale, proponendo anche dei fogli pacchetti a noleggio, non ha certo aiutato a far crescere la popolarità del titolo, anzi, fortunatamente, esiste anche la raccolta completa con tutti e 5 gli sport in edizione fisica, anche se il prezzo ormai inizia a salire e non poco. Se però dobbiamo parlare di esclusive che sfruttano a pieno le potenzialità del gamepad, beh, il primato stranamente non spetta a Nintendo, ma un gioco indie semi sconosciuto disponibile solo su eShop, Affordable Space Adventures. In questo gioco vi ritroverete ai comandi di una piccola navicella spaziale che si ritrova ad esplorare un ambientaliano ostile. Grazie al gamepad potrete controllare i movimenti della navicella e allo stesso tempo gestire tutta la plancia di comando che apparirà sullo schermo del pad. L'interfaccia touch del controller permetterà di navigare tra numerosi menu che gestiscono le funzioni interne dell'astronave come i motori, il serbatoio del carburante, lo stabilizzatore e così via. Il vero potenziale di Affordable Space Adventure si sblocca però in multiplayer dove i compiti vengono divisi tra tre giocatori. Un utente si occuperà degli sfostamenti, l'altro controllerà lo scanner mentre il terzo sarà l'ingegnere azzetto all'operatività del sistema. Si viene a creare così un multiplayer cooperativo incentrato sulla comunicazione che mette sullo stesso piano i giocatori, conferendogli compiti specifici e facendogli diventare tutti una parte fondamentale dello stesso equipaggio spaziale. Esiste solo la versione digitale di Affordable Space Adventures, un'esclusiva Wii U che non dovreste farvi assolutamente scappare. E visto che siamo in tema di titoli multiplayer, impossibile non citare Game & Wario, soprattutto ora che l'uscita di Get It Together indica che difficilmente il titolo approderà mai sulla console ibrida. Ma a questo affiancherei anche Ines Remix e vi spiego perché. Game & Wario è un episodio atipico della serie WarioWare perché abbandona la classica formula dei micro giochi per proporre una selezione ben più ristretta. 16 in totale, di cui 12 pensati per il giocatore singolo, mentre 4 per il multiplayer. Si nota tantissimo che il gioco è nato dallo sviluppo dei concept intravisti come demo tecnica della console, tanto che tutti i minigiochi sono giocabili esclusivamente tramite gamepad. In Game & Wario, sebbene nessun titolo spicchi veramente in profondità, ci sono alcuni utilizzi molto interessanti del paddone. È però col multigiocatore che il titolo decolla veramente, nonostante la selezione scarsissima di titoli, che tra l'altro richiedono spesso ai giocatori di fare a turni passandosi il controller. Se però siete in cerca di un'esperienza al 100% Wario Warisca, beh allora non lasciatevi sfuggire in Ness Remix. Si tratta di due episodi acquistabili separatamente su eShop o in un pack fisico disponibile solo in America e in Giappone, che riprendono il concept popolarizzato dalla serie con protagonista Wario, quello dei micro giochi, ma applicandolo ai titoli immortali della storia di Nintendo, in particolare dell'era NES. Al giocatore è quindi richiesto di completare dei micro compiti in delle versioni stravolte e reimmaginate di titoli NES come Super Mario Bros o The Legend of Zelda. Un'idea semplicissima ma tremendamente efficace. Tra i due episodi cambia solo la selezione dei giochi, ma ne esiste anche una versione Ultimate per 3DS che raccoglie due episodi in un'unica cartuccia e aggiunge anche nuovi minigiochi. E per chiudere vi prego non sottovalutate assolutamente l'offerta della Virtual Console, la vera arma segreta di Wii U, una feature che la rende una scelta validissima anche nei confronti di Switch. Ecco alcune chicche che potrete trovare al suo interno. La versione presente di Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3 è quella nordamericana, questo significa che include tutti i livelli extra che erano associati all'utilizzo dell'e-reader, periferica che non arrivò mai da noi in Europa e le cui carte sono diventate difficilissime da reperire. Quindi questa versione è la più completa ed economica del titolo GBA che potrete mai trovare in giro. L'anno scorso Nintendo ha proposto a tempo limitato la riedizione del primo Fire Emblem su eShop. Si trattava sì della prima volta che il gioco veniva tradotto dal giapponese, ma ora non è più disponibile. Per fortuna che sulla Virtual Console è possibile reperire la versione europea del suo remake apparso su DS, Fire Emblem, Shadow Dragon, che tra l'altro è una versione invecchiata decisamente meglio dell'originale su NES. Inoltre sono tantissimi giochi mai usciti dal solo giapponese o nordamericano che possono essere facilmente accessibili ora da Virtual Console. Si parla di pietre miliari del calibro di Chrono Trigger, Final Fantasy 4 e 6, Heartbound e Super Mario RPG. Tra tutti segnalo anche Drill Dozer di Game Freak, un action-adventure pubblicato su GBA nel 2005 e mai arrivato in Europa. Ma quella presente su Virtual Console non è una semplice ROM della versione NTSC, ma della versione PAL EU mai rilasciata, tanto che all'inizio è possibile selezionare la lingua di gioco, tra cui c'è anche l'italiano. Occasione perfetta per recuperare questa hidden gem partorita dal team responsabile dei giochi Pokémon. Lo sapevate? E poracci queste erano alcune delle esclusive Wii U che secondo me vanno recuperate subito, al volo. Voi cosa ne pensate? Avete altri suggerimenti? Dai che vi aspetto nei commenti! Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Wii, Michele Yu, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di Retro Game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tank tank tank! Mi sento molto stupido quando lo dico.